Eh sì ragazzi, eh sì, siamo tornati su Clash Royale, un po' per omaggiare quella che è la centesima carta di Royale, guardate un po', collezioni carte 100 su 100, e poi perché è una carta che mi piace tantissimo, ovvero il gigante elettrico, che siamo andati a sbloccare l'altro giorno in live, ovviamente nella sua apposita sfida. Mi raccomando, fatemi sapere sotto in un commento se vorreste altre live su Clash Royale, ma soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Mi raccomando, controllate di essere iscritti e se non lo siete, iscrivetevi. Detto questo ragazzi, siamo andati a shoppare 6.900 gemme, per la precisione ne avevo già 400 e quindi ne ho shoppate altre 6.500, ma se questo video dovesse arrivare a 10.000 like, mi raccomando ragazzuoli, 10.000 like, andrò a shopparne 14.000. E perché no, possiamo farci anche qualche challenge, per esempio tipo ogni carta leggendaria che trovo, mangio qualcosa, un po' la serie che faccio su Brawl Stars, potremmo riproporla qui su Clash Royale. Fatemi sapere se vi piace l'idea o comunque, a prescindere, ci facciamo un bel chest opening da 14.000 gemme. Anche perché io questo account lo devo ancora maxare, il mio account è principale ragazzi, lo devo ancora maxare. Abbiamo un bel po' di carte ancora da dover portare su, qualcuna la possiamo già portare, ma non mi va di sprecare tutto l'oro. Qualcun'altra invece ci mancano proprio delle carte per poterle portare su. E tra queste ragazzi c'è il gigante elettrico. E perché ho deciso di fare oggi il chest opening? Perché tra le mie carte fortunate ho proprio il gigante elettrico, tra cui anche la guaritrice che è un'altra carta che ovviamente vorrei potenziare. E proprio per questo ho deciso di farlo oggi il chest opening. Mi raccomando ragazzi, 10.000 like, 14.000 gemme. Andiamo ad aprire la prima chest. Mamma mia ragazzi, quanto mi mancava fare chest opening su Clash Royale. Mamma mia i feels, regà, mamma mia i feels. Detto questo andiamo subito con il Cavaliere. Che fortuna, in realtà manco tanto perché come avete visto ci ha dato i punti stella. Guardate eh, guardate, ci ha già dato due carte fortunate e non ci dà il gigante elettrico eh. Guardate invece sì! Invece sì, e ce ne dà ben 8 ovviamente. E lo andiamo anche già a potenziare. Potenziale. Perché è vero che ce l'abbiamo maxato, ma sarà soltanto per questa stagione. Noi adesso lo portiamo a livello 9 ragazzi. Ce l'abbiamo ancora un po' bassino perché ok, ho fatto la missione, l'ho sbloccato. Ok, ho fatto anche la soglia finale di quella missione, ho sbloccato altre 10 carte. Però ce ne vorrà adesso per riuscire a potenziarlo al 13. Non credo che con questo video riusciremo a maxarlo. Però ci portiamo avanti. Allora, vediamo un po' se continuate ad essere fortunati. Allora, il cavaliere, ma tra quelle fortunate è quella che ci interessa meno. La guaritrice invece ci interessa abbastanza. E ovviamente quella che ci interessa di più non la troviamo. Ovvero, ribadisco, non devo dirlo nuovamente, però lo ribadisco, il gigante elettrico. Però detto questo voglio fare una cosa. Dato che durante la sfida mi è piaciuta particolarmente la guaritrice, io vi dico che la andiamo a potenziare. Tra l'altro solo fino al livello 11 la posso potenziare? No, anche fino al 12 e per il 13 ce ne mancano ancora parecchie. Per il 13 ce ne mancano moltissime. Tra l'altro, ragazzi, guardate quanto ho bassi, bassi, bassi draghi d'ossa. Ce ne ho veramente pochi, raga. Infatti la scorsa stagione, lo ammetto, non ho giocato quasi per niente a Clash Royale. Ho fatto qualche soglia, ma davvero poca roba. Però per conto mio vi dico, vi dico, vi dico che un bel po' ho continuato a giocare pur non facendoci video. Abbiamo 4 skip, ragazzi. Abbiamo 4 skip. Non diciamo nulla, non ti diciamo nulla perché abbiamo trovato il cavaliere. Anche la guaritrice però preferirei quasi non trovarli loro perché preferisco trovare almeno il gigante elettrico. E abbiamo la leggendaria che tecnicamente dovrebbe essere l'arciere magico, ma potrebbe essere anche qualcos'altro. Non è detto al 100%, diciamo così. Vediamo un attimo. Attenzione invece è l'arciere magico che comunque non mi dispiace. Abbiamo già a livello 12. Quelle carte che mi mancano un po' più di tutte sono proprio le leggendarie. Sono proprio quelle che ho lontanissimo, lontanissimo, lontanissimo da poterle maxare. E quindi volevo ricominciare a fare qualche chest opening per riuscire a maxare sto account che veramente, ragazzi, è una cosa che non sono mai riuscito a fare su Clash Royale. Il cavaliere lo stiamo trovando sempre, speravo fosse il gigante elettrico a trovarlo sempre e non lo stiamo a trovare quasi mai, ragazzi. L'abbiamo trovato solo due volte su quattro, mannaggia la miseria, la metà. E due volte su quattro l'abbiamo trovato pure l'arciere magico. Va bene, va bene, va bene. Te prego, baule fortunato, non mi dà il cavaliere, ma dà c'è il gigante elettrico, no? Mi sembra giusta, no? Come cosa? Allora, niente. Il cavaliere ce lo continua a dare. Allora, la guaritrice, il cavaliere ce l'ha sempre dati, fondamentalmente, e il gigante elettrico, diciamo, che va un po' a turno. Ogni tanto sì, ogni tanto no, ogni tanto sì, ogni tanto no. Allora, andiamocelo a potenziare, così poi quando tornerà normale ce lo ritroviamo bello potenziato. E ovviamente continuiamo ad aprire. Mi sembra che abbiamo altre quattro o cinque chest fortunate da aprire, eh. Mi sembra che ne abbiamo ancora un bel po'. Oddio, attenzione, che è successo? Ci dà la palla da neve e gli spiriti del fuoco. E ragazzi, purtroppo non mi interessavano queste due carte, ma va bene. E adesso ci dovrebbe dare al 100% il gigante elettrico perché non ci ha dato il cavaliere. Peccato, con quei quattro skip avevo sperato nuovamente alla leggendaria. Però, appena ho visto che avevamo poche comuni, ho capito subito che ci avrebbe dato un'altra carta comune. Allora, vediamo un attimo. Cavaliere di nuovo. Intanto noi ci facciamo i punti stella, eh. Per carità, non è mi dispiace, almeno ci schiniamo le varie carte, le varie truppe. E attenzione, arriviamo a 16 su 50 per il gigante elettrico per portarlo all'11. Poi tocca portarlo al 12 e poi al 13. Ma va bene. Ma va bene. Vediamo un attimino. Ancora, ovviamente, l'arciare magico. Ci stiamo facendo anche una bella scorpacciata dell'arciare magico, eh. Ci stiamo facendo una bella scorpacciata dell'arciare magico. Magico e ci mancano le ultime due chest. Quindi gli ultimi due bauli fortunati. E va bene. Va bene. Speriamo, ovviamente, di trovare in entrambi il gigante elettrico. Allora, il cavaliere, mancato solo una volta e per puro caso. Attenzione, attenzione, la guaritrice. E attenzione, attenzione, il gigante elettrico, fortunatamente. Va bene. Vediamo se lo troviamo anche nell'ultima chest fortunata. Mi raccomando, vi ricordo i 10.000 like e l'iscrizione al canale. E per, ovviamente, le 14.000 gemme. Sono contento, eppure la guaritrice guerriera la stiamo trovando quasi sempre. Anzi, se lei l'abbiamo trovata proprio sempre, sempre. E poi, dai, non ci possiamo lamentare il gigante elettrico. Ora che ho finito le gemme, ragazzi, non volevo concludere qui il video. Perché volevo chiedervi un parere. Vi faccio vedere il mio deck. Io, ultimamente, non ho seguito, ovviamente, il meta, i bilanciamenti, eccetera. Però io, tanto tempo fa, giocavo sempre, praticamente, con questo deck, tranne che per il gigante elettrico, al posto del golem. Cioè, il golem al posto del gigante elettrico. E tuttora, ma in realtà con tutti i meta che ci sono stati, mi ci sono sempre trovato bene. Perché è un po' quel deck che sono abituato ad utilizzare. Che so gestire, che so giocare, eccetera. Ci ho piazzato il gigante elettrico. E non mi sta dispiacendo. Però c'è un problema. Non avendo giocato l'ultima stagione, io sono bassissimo di coppe. E sono un livello 13 che si becca i livelli 8, i livelli 9, i livelli 10. Quindi, fondamentalmente, per me, è facilissimo vincere queste partite, ragazzi. Detto proprio papale papale, insomma. Detto proprio tranquillamente. Quindi, venivo a chiedere a voi. Che mi consigliate di fare? Mi consigliate di cambiare qualcosa? Mi consigliate di tenerlo così? Mi consigliate di comunque rimettere il golem e fare un altro deck per il gigante elettrico? Mi consigliate di mettere il gigante elettrico e quindi togliere il golem? Perché questa stagione, finché ho il gigante elettrico maxato, avevo il piacere di utilizzarlo. Sperando anche, magari, di riuscire a maxarlo noi col tempo, eh. Magari, anche, facendo tutti questi chest opening, riusciamo magari anche a maxarlo. Dunque, qui, ragazzi, l'ho lasciato pushare perché io questo deck lo gioco un po' in maniera particolare. Cioè, se continuerò a fare live su Clash Royale, continuerete a scoprirmi come giocatore. Lo gioco un po' in maniera particolare. Ma sappiate che tante volte lascio completamente il push ai miei avversari da una parte per pushare e fargliene tre dall'altra. Detto proprio, molto semplicemente. Detto questo, contro la scintilla so' curioso di vedere una cosa. Ma la scarichetta, no, ok, la scarica non è come la vera scarica. Cioè, non è che gli resetta il colpo. Perché, oddio, intanto sono full di elisir, ma vabbè, raga, dai. Chiudiamo sta partita senza perdere troppo tempo. Che già troppo ne abbiamo perso. Non è come una scarica che va, ovviamente, a bloccare il colpo della scintilla. Anche perché, raga, sarebbe stato un pochino troppo forte, eh. A me sarebbe stato un attino troppo forte. Ma vabbè. Comunque, detto questo, ragazzi, lui prova a pusharci con una mongolfiera. Vi dirò, gliela lascio. Ah, c'era pure il megasguerro. Non l'avevo visto, il megasguerro era coperto dal pallone della mongolfiera. Ogni tanto lascio comunque i miei avversari fargli fare qualche corona. Tanto io ne faccio tre. Gliene lascio fauna. Chi se ne frega, almeno lui si fa le corone per continuare il pass. Lui giustamente, vabbè, dai, fa una sua emote. Noi ci facciamo la nostra. Dai, facciamola pure noi. E niente, ragazzi. Mi raccomando, 10.000 like e andremo a fare un bel chest opening con 14.000 gemme. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate sia del gigante elettrico, sia di future live che possono esserci effettivamente su Clash Royale, ma soprattutto sul deck se avete dei consigli. Per me è tutto. Ci troviamo domani con il prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!